Super bonus, basta con le propagande inutili. La bagarre politica non interessa i cittadini né alle imprese che si trovano in ginocchio a causa del blocco dei crediti. Taglia corto il capogruppo dei 5 Stelle in regione Francesco Taglieri e rimarca come la proposta annunciata dal centrodestra slegata dalla delibera di giunta sia una brutta copia della legge targata 5 Stelle. Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici sul tavolo del Consiglio regionale dal 7 febbraio. Un allungamento dei lavori della Commissione con il possibile conseguente ritardo di approvazione della norma. Un progetto di legge dove l'unica risposta che sarebbe dovuta arrivare da questo governo era quello di calendarizzarlo e di lavorarci nell'immediato. Invece ci siamo accorti che vogliono diventare titolari di qualcosa in cui non hanno mai creduto né a livello nazionale né a livello regionale. Oggi si mette in evidenza una battaglia tra la giunta e il Consiglio. Qui stiamo mettendo a rischio oltre 500 imprese, oltre 6.000 posti di lavoro e se ci fosse stata fin dalla prima ora la volontà di dare risposta a tutte quelle che sono le criticità nel settore, dal giorno dopo si poteva lavorare su un progetto di legge che trova in pancia nel suo DNA tutta la storia del Movimento 5 Stelle. La Regione Abruzzo ha la possibilità di acquistare dalle banche crediti d'imposta al fine di poterli utilizzare per il pagamento in compensazione mediante modello F24 dei propri debiti per ritenute IRPEF, contributi previdenziali, IVA, IRAP e tutte le collaborazioni esterne relativi a dipendenti e collaboratori. Qualche numero. Il super bonus in Abruzzo rappresenta investimenti complessivi per poco più di 2 miliardi di euro. Secondo i dati diffusi da Enea, ammessi in detrazione al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto la cifra di 1,5 miliardi di euro con il 70,4% dei lavori realizzati. Circa 800 milioni di crediti bloccati da spalmare 9 anni e le risorse riguardano anche le ASE. Abbiamo la possibilità di sbloccare 400 milioni di euro annui di debiti certificati attraverso gli F24. Oltre a sanare tutte le criticità attuali, abbiamo la possibilità di rilanciare in maniera importante sul territorio quelle che sono le esigenze di uno strumento che ha all'interno della sua storia la volontà di un'autonomia e un efficientamento energetico di quelle che sono le strutture ma anche quelle indipendenze di cui abbiamo tanto bisogno.